La Buttol, come si sta preparando per la festa che non c'è? La festa che non c'è? Il nostro comodo è quello di provvedere alla pulizia di tutte le manifestazioni che si terranno nell'arco di questo mese. Non è che facciamo una cosa in più, facciamo tre volte alla settimana il lavaggio delle strade, potenziamo un po' il servizio per tenere la nostra città nel migliore dei modi. Ma nel capitolato da parte dici che il lavaggio delle strade deve venire fino a settembre, è vero? Sì, fino a settembre. E sarà fatto? Sarà fatto, come? Già abbiamo iniziato da vari giorni, non so se l'hai visto Raffaele. No, io onestamente non vengo in piazza e quindi il centro... Non c'è nessun problema, oggi è domenica, anche se nel capitolato da parte non è previsto lo spazzamento e la raccolta, noi la facciamo lo stesso. Ah, quindi voi anche la domenica... La domenica non è prevista, però tutte le domeniche facciamo, come si vede, facciamo sia lo spazzamento sia la raccolta di rifiuti nel centro storico, poi in effetti non è caldo. Nel centro storico? Anche se non è previsto, questo possiamo dare nel nostro piccolo... Quindi questo mese di giugno ci sarà? Ci sarà, no, tutte le domeniche siamo pronti. Come abbiamo potenzialato anche il servizio di pomeriggio, quando si sta a qualche difficoltà, per tenere sempre la città nel migliore dei modi, Raffaele. Quindi cercate in tutti i modi di avere... Di rendere la città sempre più pulita. Più pulita, va bene.